Buongiorno, buon mercoledì 1 novembre. Ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel, andiamo subito a consultare i quotidiani nazionali che si aprono ovviamente con l'incubo terrorismo internazionale che stavolta colpisce al cuore New York e anche Copenhagen. Andiamo a vedere Repubblica come apre la prima pagina, il terrore sotto le torri. A New York furgone a noleggio, piomba sulla pista ciclabile vicino al Gran Zero, 8 morti, una dozzina di feriti, quindi siamo nella stessa zona del drammatico attacco dell'11 settembre. Arrestato l'attentatore, Uzbeko di 29 anni, l'ISIS intanto esulta. Trump li abbiamo sconfitti, non li faremo entrare negli USA. Questa la sintesi tra appunto titolo e catenaccio dell'incubo terrorismo che colpisce New York. Vedete appunto la foto centrale che dà appunto una visuale di quanto accaduto ieri a New York. Le carcasse delle biciclette travolte dal furgone dell'attentatore sulla pista ciclabile nei pressi appunto del Gran Zero. Questa la sintesi, intanto il fantasma dell'11 settembre Federico Rampini, corrispondente da New York, racconta insomma ponte tra il primo attentato e questo attentato nella stessa zona, sarebbe la zona appunto degli uffici legali, quella amministrativa della Grande Mela, che appunto sono le 15 e 5 minuti dell'ora locale e 8 morti sono fatti in pochi istanti. L'attacco nel luogo che era tornato soprattutto lentamente alla vita, perché sempre questo silenzio assordante, questa immagine spettrale della tragedia dell'11 settembre, delle torri gemelle, davvero New York a fatica è riuscito a rialzarsi e a riportare la vita in quella zona, è ripiombato il terrore, quindi un attacco dal profondo valore testimoniale. Andiamo a guardare il primo piano appunto del terrore che torna a New York, il furgone che piomba sulla pista, un nuovo attentato appunto nella stessa zona, 16 anni dopo. Arrestato l'autore si gridava Allah Akbar, trovati i proclami in arabo e intanto l'Isis ha prontamente reclamato il nuovo attentato. Guardiamo ancora le foto di questa tragedia, qui vi rendete conto con la piantina di quanto appunto accaduto ieri, siamo nella zona peninsulare appunto di New York, della Grande Mela, dove ci sono tantissimi uffici legali, il Tribunale di New York e soprattutto tante sedi collegate appunto alla vita civile e penale della Grande Mela. Nel 2001, con i due aerei contro le torri gemelle, tra le vittime c'è anche un belga e alcuni argentini, subito la paura, davvero ovunque. Continuiamo a sfogliare la Repubblica. Trump è l'attacco di un folle, l'Isis non deve entrare negli USA. Il Presidente nel suo primo commento dopo la strage, l'inquilino della Casa Bianca, non parla di terrorismo islamico. Poi aggiunge, le abbiamo sconfitti in Medio Oriente e ora davvero basta. Intanto vedete appunto le facce terrorizzate di chi è sopravvissuto, chi è scampato all'attacco, un giorno triste per la nostra città, ma i new yorkesi non cederanno al terrore. E' fiducioso quindi comunque il Presidente Trump. Così il terrorismo ha voluto colpire un simbolo della gioia e della libertà. Quella parte della città era riuscita a rinascere, ora in quella zona sono al lavoro di nuovo i soccorritori. Quindi davvero un attacco dal valore testimoniale davvero molto molto profondo. Le ombre di Donald, dallo studio ovale incollato alla televisione, attacca ex amici e rivali, isolato e senza consiglieri. Al suo fianco l'ex tico si scatena su Twitter, guardate ai democratici corrotti. Quindi continua a comunicare in maniera diretta con tutto il mondo attraverso Twitter il Presidente Trump, commentando anche a Maro quanti sono contro di lui all'interno della compagine amministrativa. E quegli account pagati in rubli il Congresso interroga Facebook. Audizioni intanto in Commissione Giustizia, dei big della rete e dei social, i post della propaganda russa. Hanno intanto raggiunto 126 milioni di americani. Il prof dei contatti tra russi e Trump è vero, ha fatto da mediatore, ma sono clintoniano e di sinistra. Parla il docente maltese, ha favorito i rapporti tra fonti diverse. L'ex consigliere Papadopoulos, un amico ma non dice il vero. Quindi davvero una questione internazionale che diventa sempre più intricata. Colpi di ribattute, ricerche e Twitter, quindi di social network, che diventano il canale preferenziale di questa storia del Russiagate. Vediamo in sintesi, parla Pittella, Giuseppe è un amico caro, non posso credere che sia coinvolto. Io avrei offerto il fango, raccolto dai russi sul conto di Ilari, sono solo sciocchezze. È una semplice studentessa molto bella, la nipote di Putin, come con altri studenti. L'ho introdotta al London Center, quindi si giustifica il prof coinvolto nel Russiagate. Sempre notizie di calibro internazionale. Parliamo della Catalogna sospesa, che prepara appunto la battaglia legale. Parla appunto il leader che dice, sono venuto qui per lavorare in sicurezza, ma il governo belga dice niente asilo. Un precedente fa sperare la difesa del leader deposto. I consiglieri intanto tornano a casa. Carles, il ribelle riluttante, porta la sfida catalana intanto nel cuore dell'Europa. La linea dura scelta da Madrid ha ridato fiato a un movimento secessionista fino a poco tempo fa, che rimaneva davvero monitorato. La giustizia belga, in sintesi, il Premier Michel sarà trattato come qualsiasi cittadino europeo. Un caso del 2013 fa sperare la difesa del capo indipendentista. Quindi continua a colpi di scena, scusate il gioco di parole, la questione della Catalogna indipendente. E ancora, andiamo in Italia, ancora politica. Parliamo del centro-destra. Mafia e stragi del 1993, accusa ridicola che mi fa vincere. Berlusconi dalla Sicilia attacca direttamente la magistratura italiana. Salvini lo chiama, sono solidale con te. Intanto le elezioni nell'isola e l'ex Premier raggiunge Masumeci. Le tue affermazioni sugli impresentabili non mi sono davvero piaciute. Scusate. Il 22 novembre la Corte Europea esaminerà il ricorso intanto contro la Severino, ma per il verdetto serve almeno un anno. Il Cavaliere resta incandidabile. La decisione di Strasburgo soltanto dopo le elezioni. Quindi davvero mancano poche settimane ed un verdetto particolarmente atteso per il Cavaliere, soprattutto in vista delle prossime politiche. Intanto analizziamo in sintesi. Vedete a piede? C'è la sintesi in sommari tra condanna, decadenza e ricorso. Il primo agosto del 2013 l'ex Premier Sirvio Berlusconi viene definitivamente condannato dalla Cassazione per frode fiscale. Quattro anni e due anni di interdizione dai pubblici uffici. Il 27 novembre del 2013 l'Aula del Senato, a scrutino palese, vota per la decadenza di Berlusconi per il decreto legislativo Severino del 31 dicembre del 2012, prima delle elezioni del marzo del 2013. Viene presentato il ricorso. Già dopo il voto della Giunta per le autorizzazioni del Senato, ottobre 2013, i legali di Berlusconi annunciano un ricorso a Strasburgo, bocciano la Severino in quanto sanzione penale. Quindi questa è in sintesi il percorso che si è intercalato in questi anni tra ricorsi, condanne e decadenze della interdizione dai pubblici uffici di Berlusconi in merito anche alla legge Severino. Per chi vota la mafia, quel blocco di potere tra politici burocratici ora gioca su più tavoli. Cuffara e Lombardo in campo sono un segnale di continuità e cancelleria, abolito le cosche dal suo lessico. Gli impresentabili, intanto l'intervista a Micciche, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, le ho decisi io e Salvini qui resta l'uomo del nord. Quindi dura presa di posizione di Gianfranco Micciche. Questa era la Repubblica Nazionale, andiamo a vedere la Repubblica di Napoli per vedere cosa accade soprattutto a Napoli, in Campania, nei cinque capoluoghi e nelle province. Apriamo la prima pagina di Napoli. Si apre con le universia di 40 milioni solo per consulenza e staff, lievitati da 27,5 a 36 milioni fondi per sistemare i 10.500 atleti previsti. Un vero e proprio fiume di ragazzi, di giovanissimi e preparatori atletici che arriveranno a Napoli dal punto per l'importantissima manifestazione agonistica sportiva. Poi a spalla vediamo pochi vigili, rischio caos nelle festività. Polizia Municipale in assemblea, in Gorghi, nelle zone dei cimiteri. E poi sempre in sintesi, lo sport sa rispinge il Napoli City non imbattibile, quindi c'è la salita sul pullman dei atleti del Napoli Calcio. E ancora uccisa con tre colpi di pistola, la donna sparita da dieci giorni. Era scomparsa questa donna, vedete, dal 22 ottobre, l'ultima volta era stata vista nella stazione centrale con un suo amico che le avrebbe fatto una sceneggiata di gelosia. Lei del Montenegro, lui un megrebbino e soprattutto le amiche del pallonetto che avevano dato l'allarme. Nessuna soluzione di sorta era scomparsa. Poi il macabro rinvenimento in provincia di Caserta di questa donna senza vita, intanto del megrebbino non c'è nessuna notizia, pare si sia cancellato. Anche dai social network. Andiamo all'interno di Repubblica. Primo novembre con l'incubo in Gorghi. Vediamo cosa accade a Napoli. Pochi vigili in strada oggi, c'è l'assemblea. Fallisce il tentativo di mediazione tra Comune e il sindacato CSA, a rischio le aree cimiteriali e quelle dello stadio San Paolo per la partita. Quindi una convergenza di eventi che rischiano davvero di paralizzare Napoli città. Intanto parliamo di una questione cruciale, l'abbattimento delle vele di Secondigliano. A gennaio andrà giù la verde e il Comune approva il piano esecutivo. Quindi un passaggio davvero cruciale per una delle periferie più calde della città di Napoli. Vediamo cosa succede. La gara, il progetto esecutivo approvato è stato assegnato in seguito ad una gara pubblica e redatto da Servizi Integrati e della 3TI Progetto Italia. L'intervento costa, pensate, 27 milioni, sarà finanziato per 18 milioni con i fondi del Bando Periferie e per 9 milioni con quelli del PON Metro. Quindi un intervento decisivo perché dalla riqualificazione urbana si interviene direttamente sul welfare, sulle fasce calde della città di Napoli, quelle della povertà, ma anche della criminalità. Perché come sapete appunto le vele sono il simbolo dell'assepamento, della conglomerazione di famiglie a basso livello economico e con appunto legami con la malavita. In molti casi, non tutti ovviamente. Continuiamo a salire, vediamo la parte alta della pagina, il piano, intervento appunto da 27 milioni di euro. Per buttarle giù tre edifici di scampia, riqualificarne soprattutto quattro. Vedete in sezione appunto il profilo delle vele che fa capire come l'intervento sia delicato proprio nella struttura stessa di distanza che intercorre tra un edificio e l'altro. Il dossier intanto parla dei rifiuti nella spalla di questa pagina, pagina 3 Repubblica Napoli, differenziata a Napoli, ferma al 31,3%, ma comunque è in crescita. Le campane per la raccolta differenziata sono una presenza costante sul tessuto urbano napoletano si punta ad arrivare ovviamente alla differenziata spinta in più zone della città. Andiamo a vedere l'altra pagina di Repubblica, sfogliamo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Piano Malagò per le universiadi, guardavamo insieme l'apertura. Oggi il capo del CONI incontra il presidente della federazione e gli illustra le modifiche. Riduzione del numero degli impianti e delle città coinvolte. Tardelli chiedeva 10.000 euro, il no di Pasquino. Quindi l'intervento, l'articolo innanzitutto è firmato da Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, e parla appunto di tutto il piano che ci sarà alle spalle degli universiadi che coinvolgeranno strutture e personale, ma non soltanto la città di Napoli, perché questo fiume di ragazzi atleti sarà accolto anche in altre città e paesi della Campania. E poi ancora vediamo nelle parti appunto della desintesi Raimondo Pasquino, il presidente dell'Agenzia per le universiadi, e a destra la stazione marittima che ospiterà gli atleti a luglio del 2019. Marco Tardelli, ex campione del mondo di calcio, era stato indicato come il testimonial di queste universiadi, ma ancora tutto in fieri. Intanto ieri il Movimento 5 Stelle ha dato battaglia al presidente della regione Campania, De Lucca, denuncia la Corte dei Conti per l'ospedale del mare parlamentare dei 5 Stelle, in visita alla struttura annunciano risoluzioni alla Camera. La capogruppo dei grillini al Palazzo Santa Lucia precisa che appunto anche le stesse assunzioni, lo sblocco del turnover per una delle strutture più importanti della Campania, soprattutto una struttura di nuova generazione, vanno fatte prima delle politiche, teme appunto che ci sia uno scambio di favore, un potenziale indotto appunto di posti di lavoro che potrebbe essere utilizzato per fare voti. Sentiamo. L'ospedale del mare è l'emblema del fallimento della sanità in Campania. I 5 Stelle tornano a mettere nel mirino il nosocomio di Ponticelli con un sit-in di denuncia davanti la struttura. Siamo di fronte alla più grande opportunità mancata per la sanità campana, attuona Valeria Ciarambino, con l'aggravante che intanto interi presidi ospedalieri e reparti sono già stati chiusi o depotenziati nell'Asl Napoli 1 Centro e nell'Asl Napoli 3 Sud. I reparti non sono stati aperti, il pronto soccorso non è stato aperto, però intanto sono stati attivati i contratti per le manutenzioni. Abbiamo la Guardia Nia, abbiamo la Guardia Armata, paghiamo le utenze e paghiamo 30 milioni di euro all'anno per una novantina di posti letto, di cui un terzo soltanto di The Hospital. è il polioambulatorio più costoso d'Italia. Questa struttura è diventata l'emblema dello spreco, ci si è preoccupati, continua la Ciarambino, più delle passerelle che dell'organizzazione e del funzionamento. La ragione per cui l'ennesima inaugurazione è slittata e non si sa ancora quando è che non riescono a reclutare il personale. Noi invece temiamo che non si voglia reclutare il personale perché siamo nell'imminenza della campagna elettorale, quindi si fa slittare di qualche mese ancora il reclutamento del personale, perché poi in campagna elettorale ci si dovrà giocare che De Luca assume centinaia di medici e migliaia di infermieri. E poi l'affondo finale della consigliera regionale. Qui ci sono enormi problemi di sicurezza, siamo di fronte all'ennesimo rinvio della sua apertura, ma noi siamo pronti a rivolgerci alla magistratura contabile. Abbiamo annunciato un esposto alla Corte dei Conti per quanto riguarda il polo materno infantile. La campagna sotto De Luca è l'ultima in Italia per livelli essenziali di assistenza. È una vergogna. E adesso andiamo a guardare il mattino. Apertura nazionale dedicata a New York, il terrore sulla pista ciclabile. Guardiamo appunto il sottotitolo. Arrestato il conducente gridava Allah Akbar. La Casa Bianca, folle, lupo solitario. Intanto l'Isis esulta. Quindi ancora Trump che non ammette, non conferma ufficialmente, almeno per quanto riportano i quotidiani nazionali italiani, chiuso in nottata, la fonte appunto di un potenziale attacco dell'Isis. Poi ovviamente seguiremo nelle prossime ore. E poi ancora, questa è la parte alta, ma l'apertura è dedicata, così è fallita la buona scuola, nuova ondata di precari al sud, cattedre vuote al nord. I bonus per merito dati a singhiozzo, i presidi, il piano bloccato dai troppi ricorsi, penalizzate le vere professionalità. Quindi la buona scuola firmata da Matteo Renzi non ha dato i risultati sperati e si continua ad aprire la forbice di divario tra nord e sud, con cattedre vuote al nord e letteralmente straffollate al sud. Boom di precari, appunto, il flop della riforma. Prof, uno su due, premiato per quieto vivere. Le carenze restano al nord. Quindi il profilo costante, dai anni 50 qua ad adesso, dei docenti, questo esercito di docenti che dal nord, dal sud emigra al nord per avere lavoro, resta. Il precario resiste senza i contratti di supplenza. La scuola non sarebbe portuta a partire. E poi ancora, furgone piomba sulla pista ciclabile, otto morti, catturato il terrorista. New York, l'uomo ha urlato prima di essere ferito. Intanto l'Isis avrebbe festeggiato, ma non conferma, appunto, Trump. Ancora Gran Zero, 16 anni dopo le torri gemelle. Ad agosto, una foto su internet della zona dell'attentato era comparsa, appunto, a minaccia. Il noleggio del mezzo da una catena nazionale è costato 19 dollari. Parliamo del pick-up che, appunto, è piombato sulla pista ciclabile. Ancora, in America un attentato all'Europa. Triste risveglio del giorno di Halloween. Metropoli colpita nel giorno della festa la sfida alla strategia di Trump. L'allarme da mesi da mesi siti web gidaisti rilanciano le minacce e invocano carneficine. Intanto, il killer in foto è di nazionalità obzbeca a 29 anni ed è arrivato negli USA nel 2010. Il sospetto, il fermo immagine dell'attentatore ripreso diffuso da un passante. il miracolo il pick-up si è schiantato contro lo scuolabus e soltanto un bimbo è rimasto ferito quindi per i piccini davvero un miracolo. L'attacco si era verificato vicino al memoriale delle vittime del 2001 e poi ancora i feriti sono 15 molti hanno pensato che si trattasse di uno scherzo di Halloween. Sicuramente non è stato così. Andiamo a vedere il mattino di Napoli. strisce blu la beffa dei ticket d'oro i nuovi tagliandi vediamo appunto il nodo trasporti che continua ad essere il vero crucio per De Magistris costano fino a 150 euro ma scadono tra due mesi crollati gli abbonamenti gli effetti del caro sosta deciso dalla NM quintuplicati gli incassi ma vendite dimezzate rispetto allo scorso anno. Questa in sintesi la beffa dei ticket d'oro tra sosta e traffico Napoli è davvero in difficoltà. Infatti il comune profondo rosso ricorso contro la delibera della corte dei conti resta la manovra per il piano di rientro e poi la storia del ragazzino segregato in casa ieri davvero una storia sciocca chi ha il minore allontanato dalla madre viveva completamente isolato appunto senza telefonino senza poter avere contatti con nessuno è stato salvato dai vigili dopo la denuncia era stata presentata questa denuncia pensate da nonno e sorella e pare appunto che questa signora soffra di ovvi disturbi psichici appunto le strisce blu costi alle stelle il record di incassi per ANM ma molti appunto rinunciano velocità media 5 km all'ora via marina è un incubo per il traffico folla ai cimiteri intanto è partita del Napoli e ci sono pochi vigili strada quindi davvero una prova di forza per la città e per i vigili urbani di Napoli scampia 40 alloggi 200 richieste ok ha solo due denunce assegnatari non in regola con le tasse questo è un altro nodo da risolvere perché appunto ci sono i morosi i cosiddetti morosi degli alloggi popolari cipro e la mia moria cancellata è la mostra che sta avendo davvero tanto successo a Napoli e tornando appunto alle questioni della città parliamo delle vacillazioni nelle scuole l'asl 1 è a quota 95 è recuperato il ritardo del 2016 ma per i bimbi sotto i 24 mesi l'obiettivo resta davvero lontano tubercolosi la regione intanto prepara un piano anticrisi perché ci sarebbero appunto dei contagi che fanno preoccupare i sanitari e i vertici dell'asl da Napoli andiamo ad Avellino e guardiamo insieme alla prima pagina quella di ieri è stata soprattutto la giornata di apertura del parco del Moscati guardiamo parcheggio Moscati buona la prima primo giorno di apertura al pubblico basta sosta all'esterno su marciapiedi isole sparti traffico e zone sterrate dopo un anno di lavori stamattina il taglio del nastro del parco che potrà accogliere una volta completata anche il terzo piano fino a mille auto attualmente sono settecento i posti disponibili la struttura permetterà il parcheggio di circa settecento posti auto per l'utenza siamo riusciti a liberare le aree esterne adesso cantierizzeremo le aree esterne in maniera tale da renderle vivibili e rendere uno spazio a verde accettabile e ben come dire che dà un benvenuto all'utenza nell'ambito dell'ospedale dal prossimo primo dicembre dunque si pagherà un euro all'ora dalle sette alle ventuno i primi trenta minuti saranno gratuiti così come gratuita sarà anche la sosta nelle ore notturne il parcheggio è come dire una parte dell'intervento che bisognerà realizzare perché il progetto relativa a tutto un centro servizi che si comune del parcheggio è interrato più una parte di elevazione dove verrà realizzato un'area commerciale un asilo nido un albergo un centro servizi a supporto della città ospedaliera va bene è benissimo è bello è comodo ci voleva comodo comodissimo io sono molto soddisfatta e contenta di questa della creazione di questo parcheggio va bene così è una comodità ci voleva davvero una gran bella struttura che ci voleva per il Moscati prima dovevamo girare alla ricerca ora non abbiamo problemi è molto più comodo soprattutto quando una persona anziana e questi erano i commenti appunto dei primissimi utenti del park del Moscati si attende il completamento dell'intervento continuiamo a guardare la prima pagina nella parte alta caccia ai clienti delle baby squillo l'intervento che c'è stato in pieno centro città vedete appunto parte del palazzo dove era ubicata la struttura all'interno della quale si sarebbe creato questo giro di giovanissime che garantivano prestazioni sessuali indotte dal proprietario del circolo a uomini particolarmente anziani professionisti del capoluogo e non solo intanto domani mattina ci sarà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino l'interrogatorio di garanzia perrogatoria ad Avellino appunto dell'uomo del proprietario del circolo Federico De Vito dell'incontro ragazze manipolate le ferite rimarranno è il commento di un'esperta di psicologia infantile intanto la CISL denuncia il caso del sindacalista e delle mazzette questo è un caso aperto da Luca Bete con striscia la notizia che aveva mostrato come questo lavoratore scusatemi questo dipendente della CISL aveva garantito sotto pagamento accesso a diplomi facili che potevano essere utili per la scalata in graduatoria del concorso per diventare uno dei componenti dell'esercito del personale atta italiano ieri è scaduto questo concorso intanto il piano ospedali non si tocca lo ha detto il governatore che difende le sue scelte sulla sanità lo ha detto ieri all'abbazia del Loreto di Montevergine in occasione di un'importante manifestazione ma non solo ha detto sì alla richiesta del sindaco di Mercogliano Massimiliano Carullo di tenere aperta la funicolare nei mesi di dicembre andiamo all'interno del mattino sul centro per l'autismo le scintille tra Foti e Carullo da Mercogliano il primo cittadino deve acquisire l'area la replica dura del sindaco di Avellino pensi al suo paese quindi davvero botta e risposta diretto tra due sindaci tra comune e capoluogo e uno dei più importanti appunto dell'Interland intanto al Moscati ha aperto il parcheggio abbiamo visto anche come è fatto nel servizio poco fa mandato in onda e andiamo a guardare intanto la pagina di Benevento abbiamo visto Avellino andiamo a Benevento andiamo nel Sagno guardiamo la prima pagina Mensa si va all'appalto breve non si trova pace gara in ritardo di nuovo vertice in comune alla luce della sentenza del Consiglio di Stato il progetto è avviare il servizio entro dicembre per non compromettere il tempo pieno ma intanto la sentenza è arrivata in tarda serata parliamo quattro anni fa il grave fatto di sangue l'omicidio Rosiello sono stati dati 25 anni a Paolo Messina sentiamo i giudici della Corte di Assise lo hanno condannato a 25 anni di reclusione per omicidio volontario si tratta di Paolo Messina 35 anni di Benevento imprenditore termoidraulico accusato del delitto che peraltro aveva confessato di Antonello Rosiello 41 anni anche egli della città noto imprenditore del settore della pasta ammazzato a colpi di pistola a rione libertà nelle prime ore del 25 novembre del 2013 omicidio volontario dunque non legittima difesa così come sostenuto dagli avvocati di Rosiello Messina è stato anche condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle stesse prima che la corte si ritirasse in camera di consiglio l'avvocato Angelo Leone difensore di Rosiello aveva concluso la ringa sostenendo la legittima difesa e chiedendo dunque la soluzione per Messina di diverso avviso invece i giudici che hanno condannato l'imprenditore termoidraulico a 25 anni di reclusione le altre province la pagina del mattino di Caserta apertura rifiuti l'impianto a Ponte Selice biodigestore il comune definisce l'intesa con la regione 26 milioni e mezzo per i lavori intanto il sito per il trattamento dell'umido avrà una portata di 40 mila tonnellate potrà servire 14 centri dell'Interland questa l'apertura di Caserta guardiamo insieme Salerno l'apertura è dedicata alla questione del comune che ora vende i parcheggi piano di smissioni incassi da 50 milioni si cerca di fare cassa zone edificabili con il PUC il consiglio comunale approva l'accessione delle aree di Piazza Mazzini ex cementificio Litorania e Vinci Prova quindi si prova a fare davvero cassa intanto tensione in ospedale mancano i ferri chirurgici il primario chiama i carabinieri tensioni senza fine al Santa Maria dell'Olmo di Cava quindi davvero un primario che ha avuto coraggio di denunciare quelle che sono le carenze nel comparto sanità che rischiano di compromettere la salute degli spunti dei pazienti intanto la prima pagina di otto pagine lite durante la festa di Halloween ventenne ferito al Moscati alle 4 del mattino l'allarme l'arrivo dei sanitari da accertare la dinamica di quanto accaduto il bilancio di un ragazzino di 20 anni finito in ospedale all'alba continuiamo a consultare la prima pagina che avete visto si apriva con l'omicidio Rosiello il collega Enzo Spiezzi ha prontamente ieri battuto la notizia della sentenza a 25 anni di condanna per Paolo Messina la storia del ragazzino segregato in casa ad 11 anni davvero ha commosso tutti a Via Chiaia e poi ancora luci per i defunti troppo cari la questione di Benevento basta lucrare sui morti molti lettori di otto pagine denunciano il caso di una congrega che avrebbe fatto pagare l'acqua al cimitero con tanto di distributore e dosatore della preziosa risorsa queste le notizie anche online dall'edicola di 8 channel vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione è per le 11 in punto grazie per l'attenzione Grazie a tutti